La letteratura, la storia e i documenti dicono che eventi di questa portata, di questa dimensione, capitano una volta ogni due, trecento anni. Un evento eccezionale quindi, quello accaduto tra l'Asolano e la Castellana giovedì sera. Numeri impressionanti, secondo i rilievi del Consorzio di Bonifica Piave, gestore della storica Brentella, ma anche della Venale, che scorre in centro a Castelfranco. L'elemento principale è che in tre ore sono caduti oltre 100 mm di pioggia su un'area molto ristretta. Una molto ristretta nel bacino della Venale. Per fortuna c'erano le casse di espansione, che loro hanno raccolto circa 800.000 metri cubi d'acqua, però il problema è che ne sono caduti quasi 5 milioni di metri cubi in quel bacino. Perciò, per quanto tu abbia aperto, per quanto tu abbia fatto, era impossibile riuscire a mettere in sicurezza il territorio, in questo caso, in questa circostanza. Da tenere presente che in un determinato momento, addirittura abbiamo completamente istruito il corso d'acqua del Brenton, deviandolo totalmente nella cassa di espansione di Riese. Proprio perché la Venale era risalito nel giro di 20 minuti a un livello tale che ha provocato appunto l'esondazione. Tanta acqua quindi, che però non ha trovato il consueto sfogo a valle. Questo momento difficile è partito questa volta non da nord, ma da sud. Perciò è salito man mano e questo ha fatto sì che il terreno è stato veramente ricoperto d'acqua fin dall'inizio, ancora prima di arrivare nella zona dove funzionavano le casse di espansione. Il territorio era già pieno d'acqua. Questo ha fatto sì che poi l'acqua, continuando nella notte, finiva automaticamente non più nei canali, ma finiva per strada. Situazione che secondo Gerolimetto con le attuali condizioni potrebbe ripetersi e per questo manda un chiaro messaggio a tutti i cittadini. Dobbiamo riuscire a proteggere le abitazioni, vuol dire creare delle protezioni attorno al perimetro delle abitazioni in modo tale che l'acqua non entri in casa ma resti in strada. Questo è fondamentale, sembrano cose banali ma sono essenziali. Sulle strade per andare più piano mettono i dossi, vuol dire che per entrare in casa dovremmo passare per un dosso, cioè alzare una sorta di recinzione che consenta di non far sì che l'acqua entri, perché le rampe dei scivoli purtroppo portano l'acqua in cantina, portano l'acqua dove non deve andare.